Nove minuti dopo le otto del mattino, buona giornata da Giussi Legrenzi, Fulvio Giuliani a Milano, Pierluigi Diaco a Roma e come promesso in studio per l'ultimo giorno di campagna elettorale, nostro ospite dopo una serie di leader politici, il leader del Partito Democratico, Matteo Renzi. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Come stai innanzitutto? Molto bene, molto bene. Poi credo che la campagna elettorale sia sempre un'occasione bella per imparare cose, per conoscere gente. Io ho fatto poi il mio collegio a Firenze, casa per casa, ho rincontrato persone e insomma è stata una bella esperienza. Adesso vediamo l'ultimo rush finale, l'ultimo media, come va? Senta, in queste ultime ore lei ha scelto un po' di ritornare e sottolineare i risultati ottenuti dal PD in questi mesi, in questi anni. Ecco, poi sono usciti i dati ieri dell'Istat, ci piacerebbe un suo commento, niente di gravissimo, però insomma una piccola battuta d'arresto anche per l'occupazione diciamo a tempo stabile. Mettiamola così, come stavamo quattro anni fa Giussi? Quattro anni fa stavamo in una crisi molto forte e la campagna elettorale del 2013, in questo caso di cinque anni fa, era su tutte le crisi aziendali. Oggi noi abbiamo un milione di posti di lavoro in più, però lei ha ragione, soltanto 500 mila di questo milione di posti di lavoro è a tempo indeterminato. Quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno è che c'è mezzo milione di persone in più che lavora a tempo indeterminato e questo lo vediamo dai mutui che crescono, lo vediamo dal clima economico che in alcune zone del paese è decisamente migliore rispetto a cinque anni fa. però ancora c'è molto da fare per quelli che sono lavoretti, saltuari, contratti che vengono rinnovati. Insomma, io non sono uno di quelli che vuole vedere per forza che si è fatto tutto ma non posso nemmeno pensare di dire che la situazione è la stessa di anni fa. No, non è così, le cose vanno piano piano meglio. Ieri un'altra piccola buona notizia, piccola grande buona notizia su Piombino, la chiusura di una delle crisi storiche con l'ingresso del magnate indiano Jindal, poi naturalmente ci sono quelli che dicono che va sempre tutto male, che non se ne farà mai niente ma chi urla non manda avanti il paese, chi urla magari si sfoga, magari qualcuno è contento, magari sui social parte una valanga di insulti ma la realtà è che poi l'Italia non cambia. Dunque i dati di ieri sono, eravamo a meno 2,3 di PIL, ora siamo a più 1,5. Eravamo a 22 milioni di lavoratori, ora siamo a 23. Gli indici di fiducia del paese crescono, però si può fare di più. Segretario Renzi, abbiamo passato, in questo caso parliamo anche noi come piccolissimi testimoni di questa lunga campagna elettorale, molto tempo a cercare di farci dire dalle varie forze politiche chi fosse il candidato presidente del Consiglio. Per esempio con Berlusconi fece qui il nome, però poi ci ha messo più o meno un altro mese, ieri sera a ufficializzare il nome ovviamente, quello di Antonio Tajani. Oh, nel caso del partito... Ma è Tajani o è Salvini nel caso del centrodestra? Ha detto Berlusconi che se Salvini prende un voto in più, a lui va bene anche Salvini. Bene. Lo ha detto Berlusconi, questa è cronaca, non faccio l'interprete. Il Partito Democratico, il candidato presidente del Consiglio del Partito Democratico è Matteo Renzi o Paolo Gentiloni? Lei lo so che mi parte con la squadra adesso, io però la domanda gliel'ho fatta a bella dritta. E io gli ho risposto come sempre in questa campagna elettorale, nel senso che noi abbiamo fatto una scelta, una scelta con il nostro partito e la nostra coalizione, che è quello di mettere al centro un lavoro di squadra. Perché? Perché pensiamo che il lavoro di Paolo Gentiloni sia stato un lavoro ottimo. Il lavoro di Marco Minniti, guardi, levi me dal novero dei nomi, ragioniamo degli altri, così viene più semplice. Voi davvero pensate che Minniti non abbia fatto una svolta seria nel campo dell'immigrazione e della sicurezza? Ho visto che ci sono altri candidati degli altri partiti per fare il ministro dell'interno. Ma il ministro dell'interno, Marco Minniti, ha funzionato, ha lavorato bene? Sì o no? Io penso molto bene. E potrei continuare con tanti altri esempi, da Franceschini a Martina, che spesso è qua vostro ospite. Insomma, noi abbiamo messo in campo una squadra, a mio giudizio, di grande livello. Poi, per come funziona purtroppo il Paese, dopo il referendum, non tocca alle forze politiche, ma tocca al Presidente della Repubblica scegliere. Quindi, di conseguenza, rispettiamo le valutazioni che verranno fatte. Posso dire, però, sommessamente, che la squadra del PD, davvero, dai, Fulvio, della squadra del PD, è davvero una squadra nella quale molti all'inizio non credevano, ma che oggi ha dei risultati da offrire. Aggiungo una visione, perché qui se no si parla solo di passato. Qual è la visione per il futuro? Che cosa accadrà nei prossimi anni in Italia? Questo è il grande tema. Io voglio dirle una cosa, non le ho mai risparmiato critiche quando è stato necessario, però riconosco, vorrei chiederle questo, è anche una domanda un po' personale, perché spesso dopo il 4 dicembre si è detto, no, Renzi deve cambiare carattere, deve lavorare sulla sua personalità. Mi sembra che un cambio di rotta, da questo punto di vista, in questa campagna elettorale ci sia stato. È come se lei avesse detto a se stesso, giocare da solo non funziona più, gioco di squadra. E questo gioco di squadra, che coinvolge anche Gentiloni, adesso lei ha citato anche Minniti, insomma, tutta la squadra del PD sembra diventata la sua nuova strategia politica. La squadra funziona meglio dell'uomo solo al comando? Glielo dico domenica, Diaco, nel senso che vedremo... Che percezione ha lei? Io penso che... Cioè questo lavoro su se stesso l'ha fatto? Ma lasciamo stare il discorso su di me, altrimenti diventa sempre un'analisi quasi psicologica. Qual è il punto fondamentale? Senza carattere in politica non si va da nessuna parte. Per Luigi non avremmo mai approvato le unioni civili, o la riforma del terzo settore, o la legge sul dopo di noi, o la riforma del mercato del lavoro, senza qualcuno che a un certo punto prendeva delle decisioni e che metteva in campo tutto il suo carattere. Non avremmo mai ottenuto i denari della flessibilità europea se noi non avessimo battuto i pugni a Bruxelles e detto a Juncker o ci dai la flessibilità o noi non ti votiamo come Presidente. Questo tema del carattere dunque va rimesso nella dinamica giusta. Non volevo farle una domanda diciamo sulla sua psicologia, anzi le ho rovesciato la questione, cioè le sto dicendo che il lavoro di squadra che lei ha messo in campo è ben diverso dalla percezione mediatica che gli italiani hanno avuto rispetto all'appuntamento del 4 dicembre. Non c'è dubbio, questa percezione mi sembra... è un'analisi che condivido, la sua, quindi è una percezione ben diversa. Detto questo, che cosa sta accadendo oggi in Italia? Qual è la partita vera? Allora, giriamoci intorno. C'è una forza politica, il PD che si è preso a tanti insulti, critiche, polemiche, offese, ma questa forza politica, anziché stare a urlare, ha preso un paese che stava almeno 2%, ha preso un paese che stava in crisi e lo ha portato piano piano fuori dalla crisi. Io leggo anche nei messaggi di alcuni dei vostri ascoltatori le polemiche, ah, non siamo fuori dalla crisi, ah, va tutto male. Non sarei onesto se dicessi questo. L'Italia non è un paese in cui va tutto male e se noi ci continuiamo a raccontare che va tutto sempre e comunque male e che le cose sono uguali a quelle di 5 anni fa, stiamo raccontando una realtà diversa. Io voglio dire che le cose in Italia possono cambiare indipendentemente dai singoli leader politici, ma se noi non diamo questo messaggio di speranza, di coraggio contro la paura, di orgoglio contro la rabbia, resteremo sempre un paese fermo. Vi ricordate, lo dico agli amici di RTL che hanno seguito quella lunga vicenda, quanto è stato importante Expo per il nostro orgoglio e la nostra identità nazionale? Tantissimo! Eppure anche allora c'era tanta gente che diceva non ce la faremo mai. Ecco, io l'idea di dare un messaggio di speranza per il futuro la considero l'idea fondamentale, prioritaria, altrimenti va a finire che si continui a parlare soltanto di tutte le cose che non funzionano. Poi naturalmente c'è un sacco di cose che vanno cambiate. Partite IVA, bisogna dargli gli stessi diritti alle partite IVA che hanno i lavoratori dipendenti, gli 80 euro, l'assegno per i figli. L'IRES va abbassata ancora dal 24 al 22%. Bisogna continuare a lavorare sulle misure concrete, per esempio sulle tasse, sulla dichiarazione precompilata. Però in questa cornice, la cornice di un grande investimento sulla speranza contro chi sa soltanto urlare. Io non voglio che lunedì mattina il mio paese si svegli in mano ai professionisti della paura. Matteo Renzi, il Partito Democratico onestamente è stato dato, soprattutto nell'ultimo periodo, per assolutamente perdente, sicuro perdente, sia da Forza Italia, sia da Movimento 5 Stelle. Lei crede, immagina, spera, di poter smentire questo augurio a partire dal 5 mattina. Guardi, io sono molto onesto, Giussi. Io sono assolutamente certo che lunedì mattina il PD avrà più voti di Forza Italia, lunedì mattina il PD avrà più voti della Lega, la vera partita per il primo posto è tra noi e i 5 Stelle. E io penso che questo sarà il risultato che lunedì mattina, il primo lunedì non so che ora, sarà il primo risultato che farà la differenza. Chi avrà più parlamentari, il PD o il Movimento 5 Stelle? Perché dico questo? Perché nel racconto di queste settimane e mesi si elimina un piccolo particolare, cioè che due terzi dei seggi vanno su base proporzionale. E per il primo posto la sfida, ripeto, è a due. Dopodiché ognuno valuterà. Ci sta ascoltando qualcuno dal nord-est, saranno tantissimi. Oh, ma vi rendete conto che il nord-est in questi mesi viaggia più forte della Germania? Eppure qualcuno vorrebbe portarci fuori dall'euro? Cioè, noi abbiamo portato l'Italia fuori dalla crisi. Avessero governato Salvini o Beppe Grillo, avrebbero portato l'Italia fuori dall'euro. Lo domando a un'azienda di Padova, a un piccolo imprenditore di Vicenza, a un libero professionista di Bergamo. Ma che pensate? Che uscendo dall'euro gli affari vadano meglio per voi? Nel mio collegio, così evitiamo di parlare in politichese, i cittadini di Firenze dovranno scegliere. Per il centro-sinistra ci sono io, per il centro-destra c'è il professor Bagnai, un professore di economia, il professore di economia di Matteo Salvini, che dice fuori dall'euro. Sia i dazzi, sia il protezionismo. Ognuno voti quello che gli pare. Ma chi dice dazzi, protezionismo, chiusura, secondo me condanna l'Italia che invece è il paese dell'export, della produzione e della bellezza. Segretario, c'è un altro aspetto, visto che lei ha richiamato questa sfida, due per il primo posto di lista tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. La faccenda del, come li vogliamo chiamare, candidati ministri dell'ipotetico governo di Luigi Di Maio. Lei ieri ne ha molto parlato, l'ha definita operazione di marketing, però oggettivamente hanno occupato la scena. E poi c'è la questione, ma qui le vorrei chiedere proprio direttamente, vorrei ascoltare una sua risposta, della qualità dei ministri. Perché almeno, nel caso del Movimento 5 Stelle, si può dire quello che si vuole, ma loro presentano un'ipotetica squadra di governo. Ma secondo me, dire operazione di marketing non era una critica. La politica è anche marketing, inutile stare a discutere. Era un complimento? Era una constatazione. Ragioniamo chiaramente, dai, vediamola, non ci prendiamo in giro. Che cosa è accaduto in questi mesi? È accaduto che i 5 Stelle hanno pestato un problema. Su che cosa? sulle candidature in Parlamento. Cioè, i 5 Stelle non si sono accorti che alcuni dei loro candidati, poi smascherati dalle Iene e non soltanto dalle Iene, avevano o falsificato un bonifico o preso una casa popolare da imprenditore a 7 euro. Sto facendo riferimenti. Il candidato di Pesaro, Cecconi, la candidata di Rimini, Sarti, il candidato piemontese, Martelli, il candidato del Lazio, del C, c'è persino un candidato a Foggia che ha falsificato le Playstation. La cosa mi intriga molto. Il CD o le Playstation? CD e Playstation. La mi intriga molto perché non basta falsificare il CD se no non gira comunque nella Play, ma questa è un'altra storia. Se uno falsifica la Playstation è un grande perché è l'unico modo che io ho per vincere contro i miei figli a FIFA 2018 quindi non voglio escludere il valore alto, simbolico e morale. Battute a parte. Hanno candidati sulla scheda cioè chi dei nostri ascoltatori domenica vota 5 Stelle a Pesaro, Rimini, Piemonte, Lazio, vota dei personaggi che non io, non Diaco, non Giuliani, non L'Alegrenzi, ma Di Maio giudica testuale impresentabili. Allora, avendo questo problema che rischiava di creargli un bel botto in termini di consenso elettorale, sono stati bravi loro. Io ho fatto i complimenti sul marketing a Casalino e agli altri perché hanno cambiato totalmente schema di gioco e hanno messo dei candidati ministro. E qui sono d'accordo con lei, Fulvio, è stato un errore da parte anche della nostra parte politica demonizzare questa scelta perché è stata un'operazione tattica e intelligente però vorrei andare nel merito. Allora, prendiamoli sul serio i nostri amici 5 Stelle. Primo punto, mi hanno massacrato per anni contro la buona scuola e chi mettono ministro della pubblica istruzione? Il consulente della Giannini e della Fedeli che ha scritto con noi la buona scuola. Tra l'altro, scusi, segretario, questo va raccontato a chi magari non mastica molto la politica e non ha visto questo video. Ieri, quando questa cosa è girata sulle agenzie, poi Repubblica.it ha pubblicato un video dove si vede questo professore complimentarsi con il segretario del Partito Democratico Renzi, allora presidente del Consiglio, non prima ma dopo che era stata varata la buona scuola. Ecco, qualcuno, tra cui Di Maio, ieri rispondendo a questa provocazione da parte di Lillie Gruber ha detto ma insomma, è ovvio che c'è un pezzo di paese che ha creduto in Renzi in quegli anni e che ora non ci crede più. Cosa risponde? Questo è assolutamente una valutazione che si può fare o non si può fare ma il punto vero è la buona scuola è una cosa buona o va cambiata? Perché tutta la discussione sul mio carattere, ragazzi, riguarda la mia moglie, cioè il ragionamento del continuo buttarlo su Renzi. A me fa molto piacere ma io penso che in questa campagna elettorale l'unico momento in cui veramente è venuto fuori il mio carattere, il mio animo è nell'intervista con Piffo perché nell'intervista con Piffo io mi sono rivisto me stesso, vero, senza la maschera e il trunco che ciascuno di noi si deve mettere quando va a fare un'intervista pubblica lo dico con molta sincerità apro il mio cuore e dico l'unico momento vero è stato quello dell'intervista con Piff sarà che mi ha preso in macchina però posso capire a uno che ci sta ascoltando ma chi se ne frega di Matteo Renzi infatti la domanda è le chiedevo dei ministri le chiedevo dei ministri la seguo Giuliani alternanza scuola lavoro per i 5 Stelle sì o no? io dico sì prendiamo la domanda di Giuliani che dice vai concreto coding e scuola digitale sì o no? assunzione di 132 mila precari sì o no? noi abbiamo fatto questo loro mettono ministro uno che ha fatto con noi questo e poi ci fanno la morale dicendo che la buona scuola non va bene ma c'è una cosa che non mi torna che voglio chiederle su questo perché non si è ancora espresso e tra l'altro non ho visto i leader politici esprimersi seriamente su questa questione perché lei dice quella del Movimento 5 Stelle è un'operazione di marketing perché a questa operazione di marketing in termini diciamo di rispetto istituzionale ha in qualche modo aderito scusi Renzi il Quirinale cioè voglio dire il segretario generale del Quirinale ha incontrato il leader dei 5 Stelle Matteo Re e Luigi Di Maio secondo lei questo incontro andava fatto o no? ma questo lo deve chiedere al Quirinale non a me io mi limito a dire ma secondo lei da osservatore il Quirinale non si commenta mai parliamo chiaramente la squadra che ha presentato il Movimento 5 Stelle è squadra migliore o peggiore di quella che oggi c'è perché io non rispondo sulle questioni istituzionali in quanto deve rispondere il Movimento 5 Stelle e il Quirinale se la cosa funziona o no le dico per me quando penso ai miei figli alla sicurezza dei miei figli sto più tranquillo pensando che al Viminale ci sta una certa signora criminologa che nessuno conosceva prima o se ci sta Marco Minniti io mi sento più tranquillo con al Viminale Marco Minniti o il Quirinale il Viminale è quello che il Viminale non il Quirinale il Viminale è il palazzo del Ministero dell'Interno dove ci sono i prefetti i questori le forze di polizia ragazzi da questo dipende la sicurezza le criminologhe a sorpresa vanno bene per lo studio di porta a porta non per la gestione dell'ordine pubblico in Italia in questo paese non c'è stato un attentato in questi anni tra Expo G7 Giubileo Semestre Italiano di Presidenza Europea abbiamo gestito l'ordine pubblico con dei professionisti non si può immaginare per un'esigenza di marketing di inventarsi un nome che nessuno conosce se però gli italiani sono convinti che per il Viminale vada meglio un'oscura criminologa che non il Ministro Minniti che votino 5 Stelle io non avrei dubbi cioè io lo prendo sul serio il Movimento 5 Stelle e dico per l'economia tra il candidato che hanno scelto loro un professore semi sconosciuto e il candidato Piercarlo Paduan che io ho visto nei tavoli internazionali che io ho visto con Obama con la Merkel io non avrei dubbi italiani domenica dovete votare e dovete votare tra due squadre profondamente diverse la nostra autorevolezza la competenza della nostra squadra secondo me non ha paragone mi scusi e poi finisco sulla storia della squadra mi piacerebbe raccontare anche le nostre idee non solo la nostra squadra ma quando ho dovuto scegliere un ministro degli esteri io ho scelto un signore che si chiama Paolo Gentiloni non una ricercatrice di Limes cioè i cittadini italiani hanno avuto da parte dei 5 Stelle un elemento di trasparenza vi ho raccontato che secondo me lo hanno fatto per motivi tattici ma io la prendo sul serio la trasparenza dei 5 Stelle e dico giudicate le nostre persone e le loro persone e quando sulla buona scuola o sull'agricoltura si va a prendere i funzionari che hanno lavorato con noi perché il ministro dell'agricoltura indicato dai 5 Stelle è la capa segreteria tecnica dell'attuale viceministro che collabora con l'attuale ministro già che ci siamo prendiamo l'attuale ministro anche perché la capa segreteria tecnica del viceministro del ministro ha detto bravo il ministro tra l'altro io e Giuliani abbiamo visto insieme adesso Fulvio lo ricorderà che qualche giorno a Tagadà sulla 7 intervistato Di Maio insieme alla ministra dell'agricoltura designata è Fulvio la ministra su domanda di Tiziana Panella cosa ne pensa di Martina cosa ha detto? un buon ministro non ottimo ma buono ecco va bene allora a me fa piacere perché oggi abbiamo scoperto che abbiamo un buon ministro dell'agricoltura che abbiamo Di Battista ha detto un ottimo ministro all'interno abbiamo scoperto che la buona scuola è talmente buona che quello di 5 Stelle che l'ha sempre contestata sceglie come ministro uno che ha scritto la buona scuola hanno anche detto che qualcuno la favoreva il referendum e allora fate le larghe intese con Di Maio che vi dobbiamo dire? per piacere lei oggi si è alzato male Giuliani lei oggi si è alzato male senta Renzi vedo che scorre con curiosità i messaggi vedo che li sta un po' guardando c'è qualcosa che la colpisce perché non sono proprio tutti diciamo a favore si posso scusare raccontare un retroscena Giussi su questo quando è arrivato il segretario del partito democratico Renzi e ha davanti a sé i messaggi io mi sono permesso di dirgli guarda che arriverà di tutto tenta insomma di non farti troppo di non farti troppo influenzare perché insomma ci sono delle persone anche molto critiche che usano un vocabolario come ieri con la Boldrini molto volgare e lui sai cosa ha risposto leggo tutto sono impermeabile ormai anche alle critiche ma da questo punto di vista l'ha sempre fatto anche Milano ma io sono sempre stato su questo uno molto convinto mi colpisce la carica di entusiasmo che ho trovato in questa campagna elettorale tra i nostri entusiasmo palazzetti degli sport pieni palazzetti dello sport pieni entusiasmo nelle sale entusiasmo nelle piazze entusiasmo nelle case e questo mi colpisce perché dopo che hai governato per quattro anni trovare l'entusiasmo non è facile c'è tanta gente che mi dice oh io ci credo più di te e che mi dice forza eh mi raccomando però c'è anche tantissima gente che sfoga la rabbia in particolar modo sui social non solo sui messaggini a me piacerebbe poterli incontrare e guardare negli occhi e discutere con queste persone e dire scusa ma quando dici che noi abbiamo per esempio quando ti scrivono sei un corrotto hai rubato ma di che cosa stiamo parlando e io dico ma l'hai visto il mio il mio conto corrente io sono dovuto andare in trasmissione televisiva ho portato il mio conto corrente in questi mesi mi hanno detto di tutto dentro però non mi cambia niente perché dentro il mio cuore c'ho la voglia il desiderio di dire che l'Italia può essere il paese leader in Europa e possono dirci dietro di tutto noi andiamo avanti con il sorriso e con l'entusiasmo di chi c'ha dei risultati e c'ha una squadra a qualcuno magari rispondiamo però Renzi per esempio Pasquale che dice a me è incuriosito questo potrebbe essere solo uno di tanti che pensano così non voto più il PD per come non ha gestito la situazione De Luca in Campania forse una presa di posizione avrebbe aiutato immagino che la presa di posizione la si attendesse da lei Renzi ma la questione dei rifiuti in Campania non è colpa di un singolo amministratore io ho dato come presidente del consiglio dei soldi alla regione Campania secchi secchi entro il 2020 le ecoballe ci devono essere tolte se sono tolte ha fatto bene chi ha governato in questi anni se non sono stati tolti hanno fallito punto perché siccome per anni si sono riempiti la bocca cecici gnagnagna e nessuno ha mai fatto niente da presidente del consiglio vedendo la terra dei fuochi io ho detto ehi noi su questo tema mettiamo i denari sufficienti per risolvere il problema adesso vi vediamo ci sono quattro anni sono partiti nel 2016 nel 2020 se ci sono ancora le ecoballe vuol dire che De Luca ha fallito se nel 2020 le ecoballe non ci sono più vuol dire che De Luca ha fatto bene punto basta aspettare segretario a proposito di tutto ciò che anche sta arrivando via messaggio e via twitter ma non avevamo bisogno di aspettare questa chiacchierata e i commenti degli ascoltatori di RTL 125 le chiedo tema tasse oltre l'estensione degli 80 euro che tante volte ha ricordato e in qualche misura ha promesso durante la campagna elettorale c'è qualche misura veramente forte veramente capace di arrivare mi permetta di dire anche al cuore dell'elettore nei prossimi mesi che lei ha in animo ripeto oltre l'estensione degli 80 euro non c'è cos'altro che colpisca veramente il nostro portafoglio tanti di voi e tante delle persone che ci aspettano a casa dicono dai dacci la misura shock e allora c'è i berlusconi che viene qua e dice faremo la flat tax lunedì mattina di flat tax non resterà neanche l'ombra non ne parla nessuno perché non esiste non sta in piedi funziona bene come specchietto per le allodole idem per le misure del reddito di cittadinanza io ho scelto una strada diversa Giuliani ho scelto la strada della serietà non vengo a raccontarvi barzellette a dirvi faremo cambieremo faremo con la bacchetta magica sim salabim e tutto cambierà vengo a dirvi l'IRES è al 27 e mezzo è diventata al 24 sarà al 22 questa cosa concreta non scalda i cuori nemmeno dei commercialisti ma è una cosa che porta l'IRES ad essere la più bassa tassa sugli utili aziendali in Europa e io voglio l'Italia leader le dico non vengo a raccontare che faremo la misura shock i PIR che sono un prodotto finanziario importantissimo per il futuro della nostra economia li abbiamo messi per le piccole e medie imprese che andavano in borsa li abbiamo iniziati ad allargare all'immobiliare li metteremo alle aziende che fanno sostenibilità economica ed ambientale ma lei dice ma come fa Renzi lei in campagna elettorale a parlare di cose così noiose scelgo la strada della serietà se vuole una cosa e sia facilmente comprensibile io dico questo toccherà a noi nei cinque anni il nostro obiettivo è verificare il funzionamento di un principio dello scaricare tutto scaricare tutti che è una cosa cruciale perché lo puoi fare come con l'incrocio dei dati delle dichiarazioni ma non mi chieda di venire qui a raccontare barzellette sul toglieremo faremo elimineremo perché siamo gli unici che in questi anni qualcosa hanno fatto indichiamo cosa fare senza però promettere bacchette magiche senta segretario Renzi nulla di più noioso in questi vent'anni è stato il dibattito interno al centro-sinistra e lei ha dichiarato pochi giorni fa una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato cioè ha detto qualora il PD non fosse il primo partito io ci sono io resisto porto avanti questo partito verso il futuro mi dica una cosa siccome Veltroni si era dimesso col 33% D'Alema aveva perso le regionali si era dimesso da presidente del consiglio il vostro partito e prima ancora il PDS ha una lunga storia di dimissioni di segretario e lei ha detto che qualora il PD non fosse il primo partito e qualora lei perdesse queste elezioni lei continuerebbe a portare avanti il percorso politico fatto in questi anni nel Partito Democratico mi scusi la domanda è un po' lunga io le chiedo se la sente e soprattutto questo partito sarà il partito di Renzi o sarà il partito del centro-sinistra lei però questa domanda me la fa sempre Pierluigi quindi è una domanda un po' cambiata ma me la fa sempre mi perdoni perché io le ho sempre detto che lei sa in questo sono onestissimo penso che lei abbia fatto un errore nella sua vita politica quello di non fare un suo partito ma quello di pretendere di trasformare il Partito Democratico in un partito diverso da quello che è all'origine io penso che noi abbiamo bisogno di essere molto chiari i partiti servono ancora o no molti dicono di no molti dicono che non c'è più spazio per i vecchi partiti cos'è il Partito Democratico rispetto agli altri è un partito che chiunque può scalare oh ragazzi ma se uno di 39 anni di Rignano sull'anno diventa presidente del Consiglio perché vince le primarie e perché il suo gruppo parlamentare lo sostiene è il segno che in Italia tutto è possibile io non ho padrini non ho padroni è uno degli elementi per cui mi hanno attaccato tutti mediaticamente e non solo è perché non ho Santi in Paradiso ho fatto la mia battaglia ho fatto i miei errori a qualche ascoltatore che dice ma non riconosce errori ne ho fatti tantissimi però ci ho messo il cuore e soprattutto con grande libertà allora io credo che i partiti ancora servano a me non piace l'idea di avere un'azienda privata che si trasforma in partito a me non piace l'idea di avere un software che decide chi e cosa deve fare a me non piace l'idea che ci sia uno che prende ed è proprietario di un simbolo detto questo il Partito Democratico avrà mille difetti guardi mille uno però è una comunità nella quale si vota e si decide a maggioranza e a me questo sembra importantissimo perché se io oggi sono qui beh insomma la minoranza poi se ne va però lì c'è un dato di fatto che non si può negare Massimo D'Alema dal giorno dopo che abbiamo vinto con il 40% l'europea ha cercato di minare la leadership e di cambiare tutto però vedi quel 40% anche lì non l'abbiamo utilizzato per noi per me io quel 40% quando l'ho preso l'ho messo tutto sul tavolo della discussione europea per l'Italia ci ho detto sapete che c'è io sono il leader del partito che ha vinto le elezioni in Italia vi dico o ci date quello che chiediamo a livello europeo o noi lo dicevo prima non sosterremo il governo di Juncker e siccome avevamo i numeri ci hanno dato quello che è servito la flessibilità per aiutare le nostre imprese oggi però vanno aiutate più le famiglie oggi dopo 5 anni in cui abbiamo dato moltissimo alle imprese perché non viene ricordato ma c'è l'iperammortamento superammortamento industria 4.0 limu imbullonati tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni oggi c'è bisogno di mettere più soldi in tasca alle famiglie al certo medio a chi fa figli questo è un paese in cui nessuno fa più figli a chi ha un anziano in casa perché quando tu passi dall'Alzheimer o dal Parkinson in famiglia ti rendi conto che sono malattie devastanti allora io non sto dicendo che se uno c'è l'Alzheimer e tu gli dai un contributo alla badante la famiglia cambia umore di che parliamo oh qui c'è un dolore atroce l'idea di non avere più la persona accanto che ricorda il tuo passato cioè chi c'è passato sa che che dramma umano è però dico possiamo aiutare queste persone anche semplicemente rendendo deducibile fiscalmente la badante possiamo aiutare queste persone aumentando il fondo per la non autosufficienza la campagna elettorale non la faccio sul mio carattere la faccio su questi argomenti e chi è intellettualmente onesto riconoscerà che in questi anni si sono fatti dei passi in avanti ma che soprattutto c'è un unico partito che ha presentato ce l'ho qui un documento chi vede in televisione chi vede nella RTL TV un unico documento con tutte le cose la radiovisione la radio scusi mi permetta l'abbiamo coniata noi mi sono perso la radiovisione chi vede la televisione vede un documento con scritto tutte le cose che noi abbiamo fatto perché non chiedete a Matteo Salvini quali sono le cose che ha fatto in dieci anni di Parlamento Europeo non l'elenco delle trasmissioni a cui partecipato sa come finisce con Salvini con un post-it con il codice IBAN dei denari che ha preso il Parlamento Europeo ogni 27 del mese ma non c'è una battaglia europea che Salvini può dire ho fatto questo a Bruxelles noi possiamo dire abbiamo fatto questo non vi basta votate gli altri siete convinti che vada bene un governo di Grillo e della Lega votateli siete certi che oggi il Grillo e della Lega lo dà per scontato e con chi vanno chi è che appoggia un governo con Grillo però così di fatto poi lei dà ragione a quelli che dicono che Berlusconi va con Renzi o Renzi va con Berlusconi posso dirle questa è una barzelletta direi mi consente è una barzelletta è una fake ma non è una fake mi dite una volta in cui mi dite chi quale governo Berlusconi ha sostenuto in questi anni soltanto all'inizio e prima Mario Monti se vogliamo allargare la legislazione precedente sono Mario Monti e Enrico Letta a me Berlusconi non ha mai votato la fiducia sul referendum ha fatto il diavolo a quattro io ricordo un suo meraviglioso intervento dicendo a Renzi un comunista bulimico di potere ha sempre cercato di farmi politicamente fuori io lo rispetto per carità di Dio noi abbiamo cercato di fare l'accordo sulle riforme istituzionali che poi è saltato il cosiddetto patto di Nazareno Renzi però per essere appunto onesti intellettualmente come dice lei però il prodotto diciamo della scuola politica berlusconiana che è fatta diciamo così di tanti ingredienti tra cui Alfano e Verdini una mano gliel'hanno data il governo del centro-destra guidato da Enrico Oletta e del centro-sinistra a un certo punto si è spaccato il governo del centro-destra e del centro-sinistra si è spaccato perché Alfano ha rotto con Berlusconi e di fatto il sistema istituzionale a ragione lei è un sistema istituzionale in cui in Italia diciamola tutta le larghe intese ci sono state in questa legislatura perché siccome non aveva vinto nessuno Bersani e Berlusconi si misero d'accordo poi tutte le vicissitudini Alfano quello che è accaduto con la rottura tra Berlusconi e Verdini perdiamo il tempo se no buttiamo via il tempo io dico una cosa agli italiani però a costo altro che insulti qui la dico con il cuore in mano ma convinto cosa dicevamo un anno e mezzo fa sul referendum dicevamo se vince il no ci sarà il caos e lo stallo perché torneremo alle larghe intese perché nessuno la sera delle elezioni avrà vinto io sognavo un sistema io sognavo un sistema nel quale vai a votare e il 4 marzo la sera dopo due ore sai chi è quello che governa per 5 anni è rosico pensando a Emmanuel Macron che ha preso il 23% e governa per 5 anni ma vi rendete conto mi perdoni però ha fatto un partito nuovo non ha preso un partito che già c'era ma scusi questo fa la differenza però io sono d'accordo con lei sul fatto che Macron ha fatto un partito nuovo lei deve essere d'accordo con me sul fatto che c'aveva un sistema istituzionale che le permettesse questo perché la riforma costituzionale così lo possiamo dire ora ci sarà qualcuno che è intellettualmente onesto ci darà ragione non nel merito ciascuno ha sempre ragione il popolo italiano il popolo italiano ha parlato quindi discussione finita anzi io mi candido al senato di più che potevo fare candidarmi al CNEL però la verità reale e indiscutibile è che se fosse passata la riforma costituzionale non avremmo avuto questo incredibile dibattito ma che succede il 5 Grillo va con Salvini Berlusconi va con Gentiloni chi c'è? bella questa questa è bella che dice con Gentiloni non correnzi con chi volete voi l'Apsus no l'Apsus me l'avete chiesto voi non ci sono l'Apsus tranquilli oggi non ci sono l'Apsus a proposito di questo visto che c'è visto che c'è appunto questa legge con cui andremo a votare Berlusconi dice che se anche dovessimo tornare a votare tra un anno ma dice che non lo faremo comunque dovremmo andare andremo con questa stessa legge mentre Grasso sostiene non esclude di lavorare su un'altra di rifare la legge elettorale lei cosa pensa in merito a questo? io penso che questa discussione sia insopportabile e noiosissima ci sono 48 ore io agli italiani dico abbiamo fatto alcune cose vogliamo farne altre se avete voglia di continuare sulla strada della solidità e della crescita noi ci siamo se avete voglia di scegliere una strada che porta a uscire dall'euro a mettere in discussione i vaccini a mettere in discussione i grandi eventi a mettere in discussione ciò che è stato fatto in questi mesi i diritti civili sociali votate per gli altri partiti tutto il tema del giorno dopo ragazzi è noiosissimo non per un cittadino che secondo me ha già spento la radio ma per gli addetti ai lavori stessi è quello che vuol fare la legge elettorale diamo l'idea in questo c'è davvero un meccanismo di fantacalcio della politica che l'unico obiettivo sia capire cosa fa uno da grande ma chi se ne frega di che cosa fanno i politici nei prossimi mesi di che cosa fa l'onorevole Rossi o il senatore Bianchi la questione vera è che cosa accade nella vita quotidiana delle persone perché quando io dico fondo per la non autosufficienza o estensione degli 80 euro alle partite IVA ci sono i messaggi qui degli ascoltatori che dicono eh però potevi farlo prima no che non potevo farlo prima perché quello che abbiamo fatto in questi anni parliamo il linguaggio della franchezza e della trasparenza e della correttezza è stato enorme ma ci ha costato tantissima fatica noi eravamo in una situazione in cui bisognava fare un passettino alla volta oggi possiamo affrontare il tema partite IVA e figli perché nel frattempo abbiamo cercato di mettere in sicurezza il sistema paese e il sistema imprenditoriale ed economico che se no avrebbe creato un danno nei posti di lavoro insomma questa campagna elettorale prenda fiato è tra gli aspiranti mago Merlino che ti raccontano che tutto il mondo cambierà abracadabra e tutto cambia e quelli che ti dicono la politica è fatica è passo dopo passo io ho fatto la maratona e la maratona la vinci la vinci nel senso arrivi in fondo la finisci per me altro che vince la maratona nemmeno se corressi con dove l'ha fatta la maratona io l'ho fatta a Firenze l'ho fatta due volte con tempi inaccettabili quindi il mio personale è molto alto il mio personale è il tempo della maratona tu sai che a un certo punto la maratona la vinci di testa la vinci quando dico vinco è arrivare fino in fondo mai vinto neanche una gara dei cento metri ti immagini la maratona se ci metti la testa e se fai uno sforzo di mettere un piede dopo l'altro è continuare a non mollare a quello che i maratoneti chiamano il fantasma della maratona tra il 32 e il 33esimo chilometro allora l'Italia è così ha bisogno di una maratona ha bisogno di continuare a mettere un piede dopo l'altro non credete agli apprendisti stregoni che vi dicono arrivo e sarà tutto facile abbiamo oggi la possibilità di intervenire su partite iva e famiglia perché in questi quattro anni abbiamo lavorato solo sul resto sa perché può sembrare una fissazione dei giornalisti ho un riflesso del giochino dei cittadini elettori segretario però il chiedervi che cosa accade dal 5 non è un passatempo per giornalisti perché banalmente per esempio noi siamo in uno scacchiere internazionale e lei sa benissimo che se fossimo bloccati nel limbo questa cosa ci esporrebbe a dei grossi rischi per esempio in termini di investimenti noi continuiamo ad avere uno spread ballerino un debito pubblico mostruoso tutte queste cose o le affrontiamo o le lasciamo lì ottimo come dire cibo per gente che già ci ha fatto male nel passato e allora che facciamo da lunedì mattina sono d'accordo con lei e la ragione della riforma costituzionale stava tutta lì nell'evitare che l'Italia potesse essere ostaggio dell'incertezza è andata così però Fulvio noi dobbiamo rispettare ciò che dicono gli italiani quindi quella partita è chiusa punto a capo che cosa accade lunedì dipende da quelli che saranno i voti perché non è che decidiamo io e lei senza vedere il numero dei consensi chi sarà il primo gruppo parlamentare il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico la partita è tra i due perché l'alleanza di destra è un'alleanza che è molto divisa al proprio interno Berlusconi è un popolare europeo sta con la Merkel Salvini è un populista europeo sta con la Le Pen sono due famiglie europee totalmente diverse non posso non chiederle a questo punto allora per chiudere che cosa accadrà sullo spread degli altri uno intanto diciamo che finalmente il debito sul PIL i dati di ieri lo dimostrano sta iniziando piano piano a scendere è complicato il percorso è molto complicato siamo al 131% è ancora altissimo noi al punto numero 100 di quel foglione bianco e rosso che ho mostrato prima in radiovisione scriviamo la nostra ricetta sul debito noi siamo gli unici che diciamo cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare però ha ragione Giuliani quando dice ragazzi dobbiamo stare attenti che non ci sia l'ingovernabilità e per questo io dico il punto di forza per chi quei moderati quelle persone che non vogliono estremisti al governo scelgono di evitare la stata dell'ingovernabilità il punto di forza è il PD senta le dicevo non posso non farle questa domanda a questo punto ieri sera il Corriere.it ha pubblicato un fuori onda durante l'incontro tra i leader del centrodestra in cui Salvini Lameloni e Fitto commentano i dati diciamo che loro hanno a disposizione credo sondaggi non so che cosa e a un certo punto Fitto si è lasciato andare a questa dichiarazione audio in cui dice che il Movimento 5 Stelle farebbe diciamo così sarebbe molto forte nel sud Italia ecco io le chiedo come è possibile che il Movimento 5 Stelle sia forte in delle regioni in cui voi avete tentato negli ultimi anni insomma di fare qualcosa il pubblico anzi il pubblico gli elettori non hanno percepito la vostra azione di governo e quindi votano i 5 Stelle ma glielo dico lunedì io penso che ci siano molti 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 punti interrogativi in questa campagna elettorale perché perché alla fine gli ultimi giorni fanno sempre la differenza lei si ricorda faccio due esempi uno buono per me e uno negativo nel 2013 il PD era dato stravincente negli ultimi giorni tutti davano per scontato che vincesse il PD lei ricorderà voi ricorderete anche quella campagna elettorale Bersani era già convinto di aver vinto e di aver vinto anche in modo netto che è successo è finita pari e non c'è stato un governo come sappiamo o meglio c'è stato un governo con le larghe intese e questa dunque è andata male per noi nel 2014 invece tutti i giornali dicevano pari PD 5 Stelle qualcuno scriveva sorpasso 5 Stelle parlo delle europee del 2014 è finita che noi abbiamo preso il 40 e loro il 20 quindi per noi è andata bene che cosa accadrà nelle prossime ore lo vedremo soltanto con lo spoglio delle schede io dico agli elettori del sud la differenza tra chi propone e chi insulta si vede sui risultati delle piccole cose ma quando Tim Cook il capo dell'Apple investe sulla Apple Academy con la Federico II o Chuck Rabbins della Cisco con la Cisco Academy è quel modello di sud che noi vogliamo non un sud che si piange addosso ma un sud che attrae grandi realtà industriali di tutto il mondo perché Napoli può essere un attrattore di bellezza e di aziende sull'Information Communication Technology l'ICT straordinario ma lei non pensa di essere un po' troppo moderno e utilizzare un vocabolario un po' troppo moderno per una fetta di elettorato che questo vocabolario neanche lo conosce? io penso che noi abbiamo una grande 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 rischio che è quello che dice lei però parliamo anche in linguaggio ad ora molto più concreto l'acciaio dell'Ilva va salvato l'acciaio dell'Ilva sono 12.000 posti di lavoro 14.000 vediamo quello che accadrà poi con l'arrivo del privato ma nell'acciaio dell'Ilva noi abbiamo fatto una scommessa che comprende anche il porto a Taranto il museo archeologico perché Taranto non tutti sanno che è una città spartana tra l'unica città spartana in Italia di una bellezza impressionante l'investimento portando il frecciarossa in quella città questi sono risultati di cui non parla nessuno ma i cui effetti si vedono nell'arco di cinque anni in Sicilia siamo arrivati e continuavano a cascare pezzi di viadotti lei ricorderà che la prima discussione con Del Rio era sul fatto che tre viadotti nel giro di un mese ebbero dei problemi che cosa abbiamo messo? abbiamo messo quasi 10 miliardi di euro ma per vedere questi 10 miliardi siccome c'è da fare le gare da fare lo stato avanzamento dei lavori fare i cantieri ci vuole tempo allora io continuo a mettermi lì in mezzo al campo a dire la stessa cosa solidità serietà concretezza se volete credere alle promesse credete a qualcun altro se volete credere all'antipolitica credete a qualcun altro noi stiamo dicendo piano piano le cose cambiano davvero due battute veloci perché è rimasto un minuto e mezzo sì sono parecchi giovani che hanno sostenuto nelle ultime settimane di non andare di non voler andare a votare e cosa direbbe a loro per portarli alle urne domenica che se voi non vi occupate della politica la politica comunque si occupa di voi e quindi votate anche non necessariamente per il PD io spero che votate il PD ma è fondamentale che l'Italia conti sul vostro impegno e sulla vostra partecipazione non è vero che sono tutti uguali studiate informatevi decidete adesso la faccio arrabbiare non lo dico sorridendo ma figuriamoci no 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 l'onestà intellettuale è fuori discussione per tutto quello che abbiamo detto e anche negli ultimi minuti un riferimento alla stabilità e a come ci guardano dall'estero ma appunto stabilità non fa rima con Gentiloni ma Gentiloni Giuliani se lo ricorda chi l'ha proposto Matteo Renzi e chi è stato l'ha riproposto il punto fondamentale è noi abbiamo oggi una delle più straordinarie possibilità per gli elettori di scegliere tra squadre diverse ok lei vuole scegliere la criminologa per lei intendo metaforicamente non voglio mettermi in mezzo diciamolo no ho capito ma la criminologa al ministero degli interni la ricercatrice agli esteri l'ex assessore ai gemellaggi di Velletri alla difesa perché alla difesa hanno proposto l'ex assessore al comune di Velletri che si occupava di sport e gemellaggi candidata ministro della difesa vuole questa squadra qui o vuole una squadra dove c'è Gentiloni Paduan Calenda Minniti perché continuare a personalizzarla quando le due squadre secondo me sono chiare in campo e ben diverse l'una dall'altra abbiamo dieci secondi mi è rimasto in mano abbiamo preso un caffè prima un po' di zucchero una bustina di zucchero se lei dovesse regalare questa bustina un suo avversario politico per addolcirlo un po' chi la regalerebbe? a Matteo Salvini e sa perché? perché a me alcune delle frasi che ha detto Matteo Salvini hanno fatto paura in questa campagna elettorale non voglio fare polemica tra l'altro Salvini è uno di quelli che quando ci siamo anche parlati personalmente abbiamo sempre avuto un rispetto reciproco non banale avendo idee totalmente diverse però vede questa campagna elettorale ha visto uno della Lega sparare non soltanto alla sede del PD ma a sei ragazzi di colore non è certo colpa di Salvini ma è colpa di un clima e allora io dico ragazzi va tutto bene ma abbassiamo i toni se no va a finire come in America dove Trump dice darò le pistole ai prof abbassate i toni e magari quella bustina di zucchero gliela dia lei quando viene attorno a Salvini no no io gliela regalo a lei magari lo vede prima di me io non è che frequento Salvini tra me e lei è più facile che lo frequenti direi ma questo più che un regalo lo definirei un grande riciclone va bene grazie a presto